crash scusami faccio portiere guarda musica 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 volete farvi la squadra dei vostri sogni e non avete credito golda.com far per voi e con il codice Joker avrete un piccolo sconticino bene a tutti ragazzi ben ritornati dal vostro giocherino siamo tornati sulla coppia più bella di Youtube Italia con Stabli bene ragazzi ho cercato di imitare quello che stavi dicendo ma non credo che stai riuscendo ok ragazzoli ci siamo e abbiamo la squadra buona abbiamo Lam e Robin se non c'è Robin ti spacca le gambe no ci stanno perché io qua sto giocando con Lam adesso io no c'ho Muller ci dovrebbe stare per forza comunque ragazzi mi raccomando spollice tantissimo per supportare questa fantastica serie mega galattica per forza direi e iniziamo subito ci sta ma chi c'è in Barcellona perché tu sei blu o rosso non lo so non ci ho capito un cazzo sono il rosso sono il rosso c'è Benadia quindi la squadra è quella buona ragazzi c'è la squadra quella buona cerchiamo di non prendere gol nei primi 13 secondi ma perché c'è Ribéry in difesa non lo so rigore no sei serio sei serio Stepney io mi ricordo solo una cosa della serie tua di Vegas che non devi mai parlare cerchiamo di non prendere gol rigore subito ma ti rendi conto che gli hanno regalato comunque è vero che giochiamo sempre con questo cazzo in alto a sinistra quindi alla mia destra si tua mamma tua mamma però sei stato freddo sei troppo freddo non so stato io io sono rosso io non ho fatto niente e neanche io oh mio zio come l'ha presa non lo so non lo so toccamela là bravo te l'ho toccato te l'ho toccato tutto bravo così te l'ho toccato quello non è fallo cioè l'ha potato evidentemente no vabbè tu hai vai Robben vai Robben oddio Stefani oddio Stefani oddio Stefani lavandino Lewandowski mamma mia dove l'ho piazzata un gol fenomenale di Stefani ragazzi cioè si smarca uno e sotto il set è imprendibile mamma mia bravo Stefani ormai segna solo lavandino in queste partite si segna solo lavandino Lewandowski il resto è nullo ci sto è tua è tua è tua è tua ci sto ci sto ci sto ci sto ci sono Stefani facciamo i gol quelli easy che si smarca il portiere così proprio oggi ti metto la firma sette gol facciamo ok così così sette sette gol vai ragazzi se facciamo sette gol cinquantamila mi piace proprio così voglio proprio che spaccamo il mondo aspetta che c'ho una bolla sulla gamba aia che male ma si chiasi delle tue bolle Stefani il bollicino della morte dai che dobbiamo fare sette gol su vai vai che perfetta questa vai 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 aia che neanche vuole fare il mio avaro avaro proprio egoista aiaa 2 1 e 2 oh oh no non corre il mio lo sapevo si Gli ho toccato, glielo ho toccato! Mamma mia, regà! Bravo, ste, bravo ste! No, ce ne fate minchia! La prendiamo gol! No, 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 no! Come no? Mamma mia, noia! Addirittura la prende con il piede! Io gli fai cancazzo delle quelle mani! Odio, Stefani! Ci sto! Sembrarsi tutto insieme, questo regà! Ho fatto tutto bene, poi ho fatto scherzo! E poi il tiro fenomenale! E beh, perché Gozzy aveva preso fiducia lì! Che fai? Che fai lo stighi con le vandosi! Non stiamo facendo più niente! Facciamo 7 gol! Eh, 20 gol! 100.000 mi piace! 100.000 mi piace! Un milione e mezzo, dirai che! 16.000 gol e nemmo fatto un cazzo, va bene! Ho fatto due tiri e basta! No, non lo prendiamo, non lo prendiamo! Santa cazzo! Non ci credo! Ma che gol ha fatto questo? Che cazzo è successo? Che cazzo è successo? Ha tirato! Si sono scontrati Noyer e il cesta di cazzo! Ha colto quel cazzo il portiere! Guarda! Bravo Noyer! Hai preso una pallonata in faccia! Ma dai! Ma che cazzo! Ma che cos'è sta roba! Mi ullerò la sua cazzo di gloria! Oh mamma mia! Oh mamma mia! Sotto! Sotto la curva! Non ci credo! Ma che fa la pallonata in colpa! Ma mi hai abbracciato molto felicemente! Ci prendiamo molto e pulso al culo! Vinciamo il salteggio! 50.000 e mi piace! Ma hai detto tu le ne hai detto! Vai! Affanculo! Si! La squireggia è partita! Fallo! Cazzarola! Fallo! 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 Passami la colta! Qui! Qui a sinistra! Capito? A chi? Concentrazione a mille! BOOM! 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 Lo schema cazzo! Vaffanculo si! Lo schimozzo che dovevi battere via alla fine ho battuto io! Che cazzo è successo? Vai! No perché ho fatto col grilletto ho premuto per fare il tiro l'avvicinato! Fatto sta che cazzo è una briscola! Mamma mia giocherigno! Che pezza che ha tirato con Müller! Vaffanculo! Se ne fa almeno un altro paio eh per mettere la sicurezza ok? Si si dobbiamo farli proprio easy easy in lemon! Tu! Vai 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 vai! Vai 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 vai! Eccola! 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 Attenzione! Subito vanno a cambiare la partita! Un attimo che si gioca un pochino un po' più seri incazzosi! Eccolo qua! Dai cazzo! Ma basta la concentrazione e polverizziamo su lui! Vai! Distruggiamo Ariamo! Dove cazzo vuoi andare? Sfondala! Vai! Come vuoi! Vai! 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 No! Non ci credo! Rigore! Ma guarda la! Ma ti rendi conto? Guarda! No! Lo voglio battere io rigore! Lo voglio battere io! Ti prego! Ti prego! Dalla Stephanie! Dalla Stephanie! Sì sei tu! Sei tu! Prendere questa responsabilità! Io la cazzo all'angolo e... BOOM! BOOM! 5 a 2! 5 a 2 ragazzi eh! Altri due golle per aggiungimento dell'obiettivo dei 50.000 like! Porco schifo eh! Ve lo dico! Ve lo dico! Ve lo dico sottovoce! Voglio like! Dai esu! Voglio like! Hai visto Noyer? You are the man! You are the man! Sì sì! Che Noyer prima ha preso una palla una lanfascia! Porco te sai ricorda per quattro episodi! Quella la voglio vedere nella intro! C'è! Ragazzi veramente! Comunque ragazzuoli! Stiamo giocando fortunatamente con la squadra completa del Bayern! Alleluia! Dopo quattro episodi ci siamo riusciti! Tre episodi! Hanno sbagliato anche il rigore loro eh! Hanno sbagliato il rigore che ha preso la traversa! Sì! Come l'episodio scorso mio! Identico! Meno male! Comunque! Stiamo a 9 punti! Un'altra vittoria! E passiamo già di divisione e Steppni! Non so se rendo! Ragazzuoli! Spollice tantissimo! Supportate la serie! Canale in descrizione del frocione qui con me! E niente ragazzi! Vi ringrazio Steppni! Al prossimo video con Giocherigno e Steppni!